Bene, oggi 11 marzo 2011 vi presentiamo la sardella. Questa qualità molto fine si chiama anche dalle nostre parti rosa marina. È una leccornia di mare molto apprezzata dalla nostra zona e si addice per molti preparati, ma si può anche mangiare praticamente con un stuzzichino a crudo. In commercio in questo periodo se ne trova veramente tanta, però attenzione all'imitazione perché questa qua è quella originale, di sarda. Di sovente vi possono anche infilare quella di alici e di altri pesci simili. Quindi attenzione alla scelta perché quella originale, che ha un sapore molto più delicato, molto più fragrante, è questa qua. Il prezzo di questo periodo uscilla intorno a 12 euro, però la potete anche trovare con una corda 11 euro a chilo. Se scende di questo prezzo vuol dire che la qualità è molto interiore. Tra poco vi faremo vedere la procedura della preparazione di questa leccornia, appunto la sardella, o meglio rosa marina, che è molto caratteristica in Calabria e da qualche tempo è anche apprezzata nelle regioni del nord Italia. Vedete, adesso si sta sgrassando sotto l'acqua corrente per qualche minuto. E' abbastanza puita, quindi il lavoro è molto relativo. Non bisogna troppo forzare perché si potrebbe praticamente spabolare, quindi tutto delicatamente. Per ogni chilo di sardella aggiungete circa 25 grammi di sale. Si aggiunge del sale, come vedete. Come vedete abbiamo finito di salarla. Adesso facciamo in modo che rimane sale per qualche ora e poi stasera si aggiungerà il peperosso a finire. Bene, facciamo vedere la procedura, la preparazione finale, della nostra sardella, meglio rosa marina. Metteremo il nostro peperosso calabrese e il finocchio nostro locale. Si posizionano due bei grossi recipienti. Adesso faremo vedere come va preparata perché va fatta in un modo abbastanza morbido e preciso. Mescoliamo due qualità di pepe, quello piccante e quello dolce. Poi a seconda di come volete la potete preparare più piccante o meno piccante. Da queste parti si utilizza molto piccante. Come vedete abbiamo già messo una partecina di questa sardella. Abbiamo inserito del finocchio locale, profumatissimo, del peperosso abbastanza piccante. La procedura è questa qua. Bisogna girare delicatamente in modo che si amalgama tutto in maniera perfetta e aggiungendo sempre del peperosso. e un po' di pinocchia a seguire ancora. Adesso in maniera sequenziale la passate nell'altro contenitore. Bene, adesso è a finire l'ultima quantità che è rimasta. Bene, le ultime girate abbiamo completato questa sequenza. Bene, questa procedura finisce qua. Adesso rimarranno tutta notte in modo che si possano apprendere tutti i sapori e da una mattina verranno invasati in piccolissimi fasi di vetro. Bene, questa sardella sarà pronta per essere gustata dopo due o tre giorni. addirittura è molto squisita mangiarla immediatamente. Come sapete si addice a tantissime preparazioni come la pizza e alcuni carricelli chiamati qua di sardella e si stuzzica anche con la cipolla e tante tante altre cose ancora anche la frittata volendo. Fino a 30 anni fa veniva considerato mangiare dei poveri adesso invece è diventata una leccornia rara molto costosa e poche persone possono permettersela. Noi per potercela permettere dobbiamo fare sacrifici e dobbiamo rinunciare a tante altre cose. Bene, stamattina proseguiamo il lavoro della sardella invasandola in questi vasetti di vetro di media grandezza tra i 300 e i 500 grammi. Come vedete la sardella adesso viene messa in questi vasi sempre con una forchetta cercando di pressarla abbastanza bene ma non eseggiatamente. Considerate che la sardella tenta a aumentare di volume e quindi cercate di non pressarla troppo perché potrebbe addirittura fuoriuscire dal vaso. Come vedete questo grande piatto che avrà almeno 120 anni si chiamava mezzetto era un piatto che veniva utilizzato nelle famiglie numerose e di sovente in questo solo piatto mangiavano tutti quindi si preparava il mangiare e tante persone al centro del tavolo mettevano questo piatto e tutte le persone mangiavano dallo stesso piatto praticamente quindi sia la pasta sia la polenta sia lo spezzatino qualsiasi cosa sia il riso per esempio utilizzavano praticamente un solo piatto per mangiare le famiglie oggi è abbastanza difficile che questo possa avvenire visto la liosità delle persone bene la procedura come preparare la rosa marina o meglio la sardella finisce qua adesso rimarranno aperte ancora per qualche ora anche fino a stasera questa consentirà che tutti i profumi eccessivi vado a dire l'essenza troppo esagerata della sardella possa evaporare come vedete i tappi sono già stati messi vicino stasera a completare faremo praticamente la tappatura finale di questi boccacci bene la nostra sequenza finisce qua alla prossima occasione da Cropalati provincia grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.